Ciao, benvenuto al video di presentazione di Swipe. Swipe è un'applicazione web che ci permette di creare presentazioni online facilmente e visualizzarle assieme ad altri utenti in maniera autonoma o guidata. La pagina iniziale si presenta con una barra di navigazione in alto la cui estremità possiamo trovare il pulsante per il login. Questo spazio invece è adibito a presentare le funzionalità dell'applicazione stessa. Una volta connessi ci troveremo nella pagina iniziale dove troveremo una presentazione già editata dal titolo Tips and Tricks. Questa presentazione ha lo scopo di aiutarci a muovere i primi passi nell'app. Creare una presentazione è molto semplice. Possiamo utilizzare il classico metodo dell'esplora risorse oppure utilizzare il metodo drag and drop per spostare gli elementi che ci servono per creare la nostra presentazione direttamente dai file. Questo ci permette di creare una presentazione veloce e rapida. Questo metodo ci permette di creare rapidamente una presentazione. Inoltre possiamo aggiungere ulteriori file, immagini, pdf, creare delle slide personalizzate, inserire dei sondaggi, dei video presi direttamente da YouTube oppure delle gif animate. Inseriamo ora un sondaggio. La creazione del sondaggio si presenterà con sette linee di testo. La prima adibita la domanda, le altre alle risposte. Creiamo ora il nostro sondaggio. Abbiamo creato il nostro sondaggio. Possiamo inserire anche un video di YouTube incollando il link direttamente qui. Il video è stato aggiunto. Proviamo ora la nostra presentazione. La prima slide, la seconda, la terza, il nostro sondaggio, il video. Ora nella pagina iniziale è presente la nostra nuova presentazione. Da qui possiamo decidere la privacy, condividerla con dei nostri collaboratori attraverso una mail. Queste persone dovranno creare un account ed essere loggate a swipe. Copiarla, archiviarla, eliminarla oppure deciderla di fissarla in alto. Questo è il link che ci permetterà di condividere questa presentazione con utenti non registrati al fine di visionarla. Una volta dato il via alla presentazione è possibile con questo tasto Go Live andare in diretta. Il che significa che saremo noi a decidere quando gli altri utenti con essi sondaggi simultaneamente vedranno lo scorrere delle slide. Decideremo quindi noi il tempo e il momento in cui le slide verranno cambiate. Decideremo anche quando sarà il momento di far vedere il nostro sondaggio e vedremo in diretta la crescita e la votazione del sondaggio stesso. E questo è tutto. Vi auguro buon lavoro con swipe.